Buongiorno, buona giornata. Oggi è la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, una celebrazione per ricordare l'importante ruolo femminile in ambito scientifico e tecnico, perché venga largamente riconosciuto e ancora di più rafforzato. Sesto San Giovanni oggi ha l'onore di avere sua ospite l'astrofisica Sabrina Rossi, amica della nostra città, più volte ospite nei nostri servizi, a raccontare in maniera semplice la fisica e l'astronomia. Buongiorno Sabrina e grazie per aver accolto l'invito. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti e grazie a te e a voi per questo invito, ne sono molto onorata. Mi fa molto piacere perché sono affezionata alla città di Sesto San Giovanni, alla vostra comunità e ai vostri servizi, quindi mi fa piacere davvero essere qua con voi. Siamo felici, orgogliosi, poi in una giornata così importante, anche perché le curiosità sono veramente tante. Se vuoi presentarti. Va bene, ci provo. Allora, come ha detto Francesco, io sono Sabrina Rossi e nasco come astrofisica, mi sono laureata in fisica all'Università di Pisa e poi ho proseguito il cammino di ricerca presso l'Università di Milano Bicocca e l'Osservatorio di Merate, dove ho preso il dottorato in astronomia e astrofisica. Quindi per una buona parte di tempo mi sono dedicata alla ricerca astrofisica vera e propria. In seguito il mio cammino si è modificato e ho trovato, diciamo, ho unito due mie passioni, che erano quelle del cielo e l'insegnamento e quindi ho iniziato a lavorare nella ricerca in didattica della fisica e dell'astronomia per la scuola di base. L'ho fatto per diverso tempo e continuo a farlo, diciamo, oggi come libera professionista e attraverso un progetto che ho inventato e che da qualche anno porto in giro per l'Italia. La fisica delle meraviglie. La fisica delle meraviglie c'è anche la maglia di rappresentanza. Però prima di arrivare un po' alla fisica delle meraviglie, volevo chiederti ma come si diventa astrofisica? Cioè nel senso, partendo un po' dalla fase emotiva fino ad arrivare concretamente a realizzare un sogno. Sai, cosa vuoi fare da grande? L'astronauta, il pompiere, ognuno sviluppa a livello emotivo un sogno. Tu come hai realizzato il tuo sogno? Ma senti, io sono partita a piccina a guardare il cielo, mi è sempre piaciuto stare con il naso all'insù e anche un po' con la testa all'insù e un po' la testa per aria e avevo questo desiderio di conoscenza e mi piaceva, lo portavo avanti così, proprio a gusto, guardavo, osservavo, poi nel tempo ho cominciato a leggere qualcosa e in realtà non avevo il sogno di diventare astrofisica, nel senso che non avrei mai immaginato di diventarlo, avevo il sogno di diventare insegnante di matematica e di fisica e per cui ho scelto di andare a fare fisica all'università proprio per questo motivo e nel corso dell'università mi sono rinnamorata del cielo e sono finita a fare una tesi in astrofisica e da lì ho continuato. È nato tutto. Non è semplice, nel senso soprattutto per chi è dall'altra parte comprendere i sofisticati i meccanismi del cielo, poi guardarlo dal punto di vista emozionale è pazzesco, ma in quella che è la spiegazione scientifica un po' più di complicazione la troviamo. Ma quali sono le attività di divulgazione che vengono spesso fatte, che fai per poter rendere emozione l'astronomia, la fisica della Terra? Allora, io di solito cerco di coinvolgere i ragazzi, i bambini, poi dipende dall'età che hanno, proprio in un percorso come se fossero degli astronomi, anche loro, e quindi li metto proprio a prendere le osservazioni, ad esempio della Luna, una cosa che faccio molto spesso e li accompagno, li accompagno in questo viaggio di conoscenza in cui però loro sono i protagonisti. E quindi da un lato si avvicinano all'osservazione del cielo, a quello che è la Luna, a quello che fa e dall'altro però hanno anche la possibilità di vivere una vera e propria esperienza di costruzione di conoscenza scientifica. Quindi questo è quello che un po' cerco di fare, lasciare sia lo spazio alla bellezza del cielo e dell'osservazione, al coinvolgimento anche di questo e la meraviglia, insomma lo stupore, ma al tempo stesso cerco di avvicinarli a come la scienza viene costruita. Secondo te, perché sono ancora poche le ragazze che studiano scienze? Cioè nel senso dalla tua esperienza, dal tuo vissuto, è una questione di intraprendere il percorso oppure è una questione di ciò che poi si diventa dopo. Secondo te come mai c'è poco… Ma è una domandona questa. Secondo me è un po' e un po' entrambe le cose. Da un lato credo che non venga valorizzato abbastanza il modo con cui la scienza viene costruita dalle persone. Quindi i bambini, i ragazzi e le ragazze in particolare non conoscono cosa ci sta dietro a quelle formule che magari si leggono sui libri o a quelle notizie che arrivano dalle agenzie spaziali e dalla NASA. E questo impedisce anche di capire il valore di questo lavoro e quanto c'è dietro questo tipo di percorso di studio. Anche l'entusiasmo, la bellezza insomma di partecipare a un progetto che coinvolge comunque tante persone e che porta anche con tempi lunghi a volte ma a fare delle scoperte molto importanti. Dall'altro c'è il discorso del percorso sicuramente è un ambito insomma ancora diciamo un po' etichettato come maschile e quindi è visto un po' non è diciamo la prima scelta che magari una ragazza fa e di solito ci arriva a fare quella scelta quella ragazza o quelle ragazze che magari hanno già una loro passione o predisposizione all'ambito scientifico e però allo stesso tempo vengono tagliate fuori magari tante altre ragazze che potrebbero benissimo dare il proprio contributo ma che non hanno trovato nel percorso scolastico o extrascolastico delle opportunità di avvicinarsi in altro modo alla scienza. La tua fisica delle meraviglie può essere un modo per invogliare beh in questo caso entrambi tutti maschi, femmine, ragazzi, ragazze a studiare le scienze e se un po' di più alle ragazze questa cosa qua se può accadere per le ragazze. Ma senti io questo progetto nasce per portare la fisica ai piccinissimi quindi io inizio dall'asilo nido e poi le materne su su quindi l'obiettivo è quello di di avvicinare i bambini e le bambine il prima possibile a questo mondo a loro i più piccoli sono degli scienziati nati e quindi lo fanno in maniera spontanea questo tipo di esplorazione non c'è differenza tra maschio e femmina anzi cioè a volte è proprio il contrario spesso sono le bimbe quelle che ti danno delle soddisfazioni di scoperte eccetera e l'obiettivo è proprio quello di da un lato sicuramente rendere la conoscenza scientifica accessibile sin da piccini a tutti e dall'altro anche di usare la conoscenza scientifica per formare la persona perché poi di fatto avere una testa ben fatta secondo me aiuta nella vita non solo nel percorso di studio quindi anche a fare delle scelte anche a fare anche a fare delle scelte a fare avere dei criteri con cui leggere il mondo insomma è importante arriviamo a sabrina scienziata che poi alla fine veramente tutti abbiamo uno sguardo su questo mondo ma come guarda il mondo una scienziata la risposta per me abbastanza ovvia è lo guarda con meraviglia il mondo il mondo è che ci circonda è una riserva infinita di opportunità di meraviglia scoperta stupore e quindi di sicuro lo sguardo della scienziata mi aiuta ad avere come dire ogni giorno qualcosa in più magari rispetto ad altri sguardi o comunque mi rende la vita parecchio tra virgolette divertente possiamo dirlo e curiosa insomma diciamo che non si finisce mai di imparare questa è una bella cosa l'esperienza più significativa piena di soddisfazioni l'esperienza più per sabrina rossi nella sua carriera da scienziata e da astrofisica qual è stata ma senti sono state tantissime le esperienze vissute e me le porto un po' tutte nel cuore di sicuro quando ho fatto il dottorato di ricerca ho vissuto delle esperienze che mai avrei pensato di vivere ho incontrato tante persone di altre nazionalità di altre origini che facevano un percorso simile quindi c'è stata l'occasione di confrontarsi non solo sull'astronomia ma anche sul resto quando mi sono occupata di ricerca in didattica della fisica dell'astronomia avevo vissuto degli anni favolosi di una bellissima ricerca di compagnia di compagni preziosi tra cui anche Francesco e poi vabbè la mia maestra Erika Giordano che è stata quella che un po' mi ha indirizzato a occuparmi di questo ambito di ricerca è difficile dire qual è stato sicuramente è stata un'avventura e lo è tuttora anche da libera professionista. Ultimissima ultimissima e cosa possiamo dire alle ragazze per invogliarle a studiare le scienze ad essere un po' Sabrina Rossi? Allora intanto di tornare a guardare un po' più spesso il cielo questo può aiutare perché quello è un bel motore e poi di essere curiose e di guardarsi il mondo di guardare il mondo sempre e comunque alla ricerca di qualcosa di non fermarsi magari a quello che viene detto tra i banchi di scuola o sentito dire diciamo nei dintorni ecco di andare oltre di cercare di provare a scoprire a trovare il modo di insomma di di scoprire le vostre le vostre i vostri sogni insomma di realizzarli. Bellissimo allora noi ti ringraziamo grazie per aver come dire dedicato un pezzetto della tua complicata giornata a noi per oggi veramente noi ci tenevamo assolutamente ad averti e a raccontare anche dal tuo punto di vista questa questa giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza eh grazie Sabrina grazie di cuore speriamo di incontrarci presto in quelle che sono anche le attività che organizziamo qua a Sesto San Giovanni grazie